Signore e signori, siete pronti per le finali di Street Dance? Siete qui per imparare? Io direi il contrario. Siete a vostro agio? Potete venire qui per provare i vostri passi. A patto di farlo insieme ai miei ballerini. Cosa? Io non voglio averci niente a che fare. Dobbiamo essere così diversi. Le cose stanno così, amico. Lettere dei genitori preoccupati che il suo esperimento stia danneggiando la formazione delle loro figlie. Abbiamo la finale fra sei settimane. Questa squadra fallirà. Balletto classico e hip-hop insieme. Sì, perché no? Grazie a tutti. just leave me down oh oh oh